Buongiorno a tutti e incredibilmente ci sarà l'esodio della XXL Edition di scontri tra Titanic Wii. In Mortal Kombat XL appunto avevo fatto diciamo due incredibili scontri in un unico episodio e lo faremo anche su Mortal Kombat 11 in attesa del prossimo capitolo. Questa prima selezione sarà molto particolare perché saranno tutti i scontri contro personaggi a random, almeno nella prima fase, per poi andare nella seconda fase con il vincitore, io o il computer, che andrà a affrontare una persona scelta da voi. Quindi già sotto in questo video, che poi arriverà al video ancora dopo, perché ne registrerò due adesso su Twitch in live, scrivetemi quale sarà il terzo sfidante di questa sfida. Non avete capito un cazzo, lo so, ma adesso vi mostrerò tutto. Allora, cursore nascosto? E il mio personaggio sarà scelta casuale. Minchia tutto casuale proprio, bello! Vabbè prendiamo questa, e contro, ovviamente, tipo di rivale. Cursore nascosto? Selezione casuale. Variante casuale. Difficoltà difficile. E il tutto lo faremo in selezione casuale. Alla fortezza di Kronika. Chi vince resta, e ci sa, la sfida nel mio scontro dopo. Sfidante Fushin, io Johnny Cage. Ho stato io a benedire l'antica tribù da cui discemo. Aspetta. Quindi tu sei il mio bis bis nonno? No. Lui era insopportabile. Proprio come te. Oh, come ti permetti! Il vincitore di questa sfida proseguirà... Mamma mia che ho fatto la parri senza volerlo. Proseguirà nello scontro dopo. Questa è la nuova tipologia dello scontro capitani XXL. Mi sono, porco schifo, dimenticato di cambiare cosa dello streaming. Io non vedo quanta vita allo stronzo. Porca la miseria. Ovviamente è il primo tentativo senza andare a vedere le messe. Aio. Anche perché... Cazzo se le ricorda? Cristo balla. Pezzo di schifo che forse vinco il primo round... E forse la portiamo cazzo al primo tentativo? Eh? No eh? Sì eh? Godo? Dopo lo metto in mezzo. Dopo il cazzo matto. Qua mi devo ricordare che non è in Zastis e posso usare anche il zettio. Cristoforo Colombo. Assassino della fortezza di Cronica. Ovviamente come tecnica uso molto quella che è calzi e uppercut in stile Mortal Kombat 9. No! Uno, uno, uno. Mamma mia lo spezza, mamma mia mi ha preso il volo. Bastardo! L'alabarda spaziale? Anzi la balestra. La balestra? Tirato la balestra? No! Ma perché? Non mi ha fatto il fatto apposta? No! Vittoria! Come cacchio si fa? Colpi fatali. Amichevole signor Cage. Da vicino. Tricche ballacche. E c'è la vittoria al primo tentativo! Johnny Cage superstar! Cosa c'è per cena? Spaghetti o ramen? Ah, sono a pezzi! Fatality! Johnny Cage vince! Credibile che ho scritto sul cosino che uso qua. Johnny Cage l'ho sbagliato a scrivere tutte e due le volte. No, l'ho scritto giusto alla seconda. Johnny Cage batte Fujin! Si chiama Fujin, sì. Al primo tentativo! E passa al secondo! Johnny Cage è riuscito a vincere, quindi si merita di andare avanti nella sfida. Johnny Cage è la star da Oscar e andrà contro un personaggio scelto da voi. Ovviamente adesso questa è la prima parte, la sto facendo in live. E il primo personaggio che leggo è Spawn. E quindi andremo contro Spawn. Che vincerà di questo scontro? Andrà avanti nel prossimo video! Cambio di programma, come al solito! Spam! Joker pagliazzo falso! Difficoltà difficile. E il tutto questa volta andremo a farlo nelle rovine dell'isola di Shang Tsung. Della seconda parte dell'XXL Edition! Oh, è il momento di ricacciarti nel tuo universo. Hai paura che ti rubi la scena? Temo che tu voglia ridurmi a brandelli. Round 1. Fight. Non ho capito quello che hai scritto, aia! Perché lei mi tira addosso queste cose, caro Joker? Come si permette, lei non può fare una cosa del... Ah, Batman! Sono la notte. Salverò il mondo. Vieni qua che ti randello la famiglia! Aia! Perché faccio cosa del mimo che non l'ho bene? Vieni vicino. Basta! E vabbè! E non ho sblocato, non ho spostato cosa e non ci vedo un cacchio! Sono troppo pa... Bastardo! Ah! Aio! No! Persona brutta, cattiva! Chi è modo? Dai, mi dispiace di aver offeso una persona diversamente porco schifo! Ah, bastardo! Fame! Ma sempre niente! Bello il coso della cenera lì! Bastardissimo! Uh! Cotto? Eh, vabbè, l'avevo fatta potenziata prima volendo, eh! Prima l'ho voluta la mossa, eh! Ma cos'è quella potenza di percosse qua? No! Perché sono così potente? Che mi è successo? Oh, tra l'altro, ancora anche la... La fatal blow! Ecco! Tu non ce l'ha più! Aia! Mi hai fatto molto male! Non l'hai preso a bastonate! Ma io faccio più ridere di... Beh, insomma, non lo so, eh! Sinceremente non lo so se io faccio più ridere di Joker, eh! Joker, vediamo se ridi a questa battuta! Lo sai qual è l'animale più veloce al mondo? Voi lo sapete qual è l'animale più veloce al mondo? È l'aquila! Volete sapere perché? Perché è là! Qui e là! Ha! Mamma mia! Se non si ride con queste cose... Volà a dire che tu non meriti di vivere, Joker! Portacci due! Ed è la tua intera stilpe! Soprattutto anche a... Bastardo! No! Che ha fatto la roba arrollata, assassina! Brodo! Potenziata, potenziata! No! Non l'ho preso! Fatal blow victory! No! Bava! Dammi la vita! Merci! Mi dà la morte! Fatality! The Joker wins! Il Joker avanza nel prossimo appuntamento con lo scontro tra Titani XXL dove contro chi andremo lo deciderete voi! Mouhahaha!